Vladimir Luxuria come non l'avete mai vista. L'icona del mondo LGBT ha sfilato con un elegantissimo abito da sposa, guarda la foto Vladimir Luxuria come non l'avete mai vista. Dopo i vergognosi insulti da parte di Vittorio Sgarbi, nel salotto trash di Live, non è la d'Urso, l'icona del mondo LGBT ha sfilato con un elegantissimo abito da sposa a potenza, nell'atelier Nozzolillo Modella per un giorno pioggia di like e commenti di ammirazione per Vladimir, la splendida Luxuria ha sfilato in abito bianco a potenza, stringendo tra le mani un bocchè di fiori, e ha conquistato davvero tutti Ecco lo scatto che ha fatto letteralmente impazzire il web Ci vediamo nei prossimi video, ciao!